ok buongiorno a tutti direi che possiamo cominciare la prima parte della lezione di oggi la useremo per affrontare per conoscere questo famoso sito github di cui vi ho già citato perché ci sono i materiali sopra e ci sono i progetti sopra e cercheremo insieme di vedere quelle che sono le mosse fondamentali per poterla utilizzare è un sistema diciamo così nella sua interezza abbastanza complesso ma noi ci limiteremo diciamo le sue funzioni base ma ci aiuterà molto anche un po' a entrare nella mentalità diciamo così di quello che succede in un team di sviluppo parliamo di sviluppo software ma non necessariamente quando è necessario gestire dei progetti fatti condotti da più persone contemporaneamente l'obiettivo di questo parliamo di git ma in realtà è un problema diffuso l'obiettivo è quello di gestire le versioni di un progetto quindi che voi stiate facendo un progetto un lavoro di gruppo una tesina un lavoro una tesi un libro la divina commedia ciò che volete non si produce tutto istantaneamente richiede giorni settimane o mesi in cui andate avanti scrivete un pezzo cancellate modificate riprendete e così via fa grafica fa la se lavorate in modo diciamo così naif ingenuo vi ritrovate sul vostro computer con 24 mila versioni dello stesso file poi dipende se siete più o meno diciamo così schematici il nostro modo di lavorare per cui questi file possono chiamarsi versione 1 versione 2 versione 3 oppure li chiamate con una data oppure li chiamate ultimo ultimissimo questa volta è davvero finito o cose di questo genere dopodiché non si capisce più niente questo se lavorate da soli se lavoriamo già in due o in tre diciamo così è finita nel senso che io ti mando la mia versione via mail e tu ci lavori ma nel frattempo poi l'ho modificata anch'io e poi alla fine abbiamo due o tre versioni diverse dello stesso file e dobbiamo poi spendere se va bene un mezzo pomeriggio a cercare di conciliare le modifiche fatte da più persone quando poi nel frattempo hanno usato strumenti diciamo così poco friendly come word che ha il difetto che quando fai copia e incolla da versioni diverse ti sballa la formattazione solo perché ti vuole essere amico allora chiaramente questi meccanismi ti fanno perdere sia tempo che poi qualità del risultato in particolare per quanto lavoriamo adesso entriamo nel mondo diciamo così più del software per quando parliamo di prodotti software programmi codice che sono relativamente più facili da gestire perché tendenzialmente sono in formato sorgente in formato testo mentre invece artefatti tipo grafico relazioni eccetera eccetera sono più fogli di calcolo sono un pochino più complicati perché alla fine quando tu li salvi su un computer sono in formato binario tanto per continuare 20 secondi con la digressione se io dovessi creare un documento un foglio di calcolo per dire condiviso tra più persone non userei assolutamente excel o word come documento oggi userei probabilmente se dovessi lavorare con più persone strumenti online tipo google docs o google sheets che ti permettono facilmente di lavorare insieme anche su un oggetto complesso non ti permettono così facilmente di gestire varie versioni o tornare indietro nel tempo vedere cosa avevi scritto tre giorni fa e poi è cancellato e cose di questo genere ci sono questi due aspetti uno l'aspetto collaborativo e l'altro l'aspetto temporale quindi poter eventualmente tornare indietro o avere versioni diverse dello stesso documento che poi dopo fai convergere magari io lavoro sul capitolo 2 tu lavori sul capitolo 3 a un certo punto li mettiamo insieme strumenti tipo google docs ti permettono di lavorare insieme ma non separatamente cioè lavori insieme sullo stesso documento se fai documenti diversi poi sei tu a mano che devi riuscire a fonderli questi sistemi di controllo delle versioni cercano di risolvere questi problemi alla fonte dando degli strumenti attraverso cui il programmatore si può appoggiare per gestire questi processi quindi collaborazione, versionamento, versioni alternative, conciliazione di modifiche fatte in momenti diversi e o da persone diverse eccetera eccetera dicevo lavorano quasi tutti su informazioni di tipo testo, testuale e quindi sono particolarmente adatti a linguaggi di programmazione ma anche quando dovete fare la tesi se decidete, se siete saggi e decidete di usare ad esempio l'atec anziché word per scrivere la tesi quello è un file di testo e potete usare sicuramente strumenti di questo genere per evitare che otto ore prima della consegna word decida di impallarsi o di sputtanarvi tutte le immagini strumenti, la necessità del controllo delle versioni c'è da sempre e quindi anche gli strumenti per fare questo lavoro si sono evoluti nel tempo adesso noi siamo praticamente alla terza generazione di strumenti di questo genere daremo un'occhiata a quello che fanno e poi entreremo nel dettaglio di come funziona questo specifico sistema git e in particolare il sito github che ne implementa una possibile copia allora, il concetto base c'erano un po' di definizioni iniziali con cui dobbiamo entrare in familiarità il primo concetto è quello dei repository il repository è un luogo che contiene tutte le versioni del lavoro che hai fatto dall'inizio fino ad adesso quindi immaginiamo di lavorare su un programma o su un documento e noi quando ci stiamo lavorando abbiamo una versione che è la versione di lavoro questa versione di lavoro cambia nel tempo e in questo repository sono salvate tutte le versioni di lavoro che ci sono mai esistite se io voglio condividere il mio lavoro con qualcun altro basta che noi entrambi in qualche modo e poi chiaramente i vari sistemi di controllo versioni cambiano il modo in cui lo faccio condividono lo stesso repository con persone diverse e lavoriamo in un gruppo e vediamo come si può fare dal repository diciamo così si estrae la cosiddetta copia di lavoro cioè la copia di file che sto modificando in questo momento cioè io non posso modificare direttamente il repository il repository non è una cartella dove butto dentro roba è un database gestito dal sistema di controllo versioni io posso lavorare in una cartella, in un insieme di directory accessibile che chiamo copia di lavoro quindi quando noi creiamo un progetto in Eclipse i file java del progetto, i file fxml del progetto saranno la mia copia di lavoro che poi posso con opportune operazioni salvare nel repository oppure andare a ripescare una versione vecchia sempre da questo repository quindi il repository è un oggetto che è bloccato non lo posso toccare direttamente se non altrimenti alcune operazioni la copia di lavoro invece sono i file che sono liberamente modificabili chiaramente il sistema in ogni momento saprà dirmi nella mia copia di lavoro che cosa ho modificato rispetto alla versione più recente che c'è nel repository ad esempio sa se io ho modificato qualche file, se ho creato qualche file nuovo se ho cancellato qualche file e nel caso in cui l'abbia modificato è in grado di dirmi quale righe, quale linee ho modificato quindi quali sono le differenze perché mi serve sapere quali sono le differenze? uno perché a lui interessa poi quando lo salverò nel repository andare a salvare ciò che è stato modificato ma anche a me per andare a capire che cosa ho fatto o che cosa ha fatto il mio collega rispetto alla versione che c'era ieri o la settimana scorsa questi due oggetti, la mia copia di lavoro e il repository si parlano comunicano attraverso due operazioni di base nei due versi l'operazione più importante è quella di cosiddetta commit cioè si salva l'ultima versione dei file che ci sono nella copia di lavoro all'interno del repository io questa operazione del repository me lo immagino con una serie di fettine una appoggiate una sull'altra che ciascuna fetta, ciascun livello corrisponde a una versione del mio progetto quando faccio l'operazione di commit aggiungo un nuovo foglio, aggiungo un nuovo livello aggiungo un nuovo strato sopra a quelli precedenti il commit di solito è un'operazione che ha una data, ha un autore, ha un commento molto spesso, ho aggiunto questo in modo che poi semplicemente andando a scorrere la storia dei commit capisco chi ha modificato cosa e perché ma poi i file sono a questo punto congelati nel mio repository questa è un'operazione che si tende a fare abbastanza di frequente io sto sviluppando anche un programma complicato a un certo punto ho messo a posto un pezzo quello funziona, facciamo commit di quello sistemato l'algoritmo poi lavoro in un'altra parte altro commit diciamo così, migliorata l'interfaccia grafica cosa del genere io anche quando lavoro da solo sono abituato a fare così ma per proteggermi contro i miei stessi errori sai cosa hai modificato eventualmente si può poi tornare indietro andare a ripescare di modificare e poi sono sicuro che una volta che ho fatto commit non rischio di fare pasticci di cancellare un file per sbaglio o cancellare anziché cancellare una riga cancellarne 30 e poi me ne accorgo solo dopo due ore e vado a ripescare quella riga che ho cancellato capita, no? cioè si sbaglia normalmente o fai un copia in colla sballato tu comunque hai una storia che ti fotografa il tuo lavoro a intervalli di tempo che scegli tu ovviamente che abbia un senso non è un salvataggio automatico ogni 30 secondi che poi non riesci più a riconoscere qual è la versione che ti serviva sì, potrebbe essere utile ma invece avere le salvataggi espliciti quando, diciamo così, sei giunto a un punto sensato del lavoro e quindi questo è il modo in cui si crea la storia la storia è una sequenza lineare o non lineare per il momento non ci interessa di commit di operazione di commit e poi c'è l'operazione inversa è quella in cui invece posso aggiornare la mia copia di lavoro sulla base dei più recenti commit presenti nei repository quando è che lo devo fare questo? vabbè, se sono da solo e lavoro solo su un computer non mi servirà quasi mai mi potrebbe servire per andare a ripescare una copia vecchia quindi non vado a prendere l'ultimo livello ma vado a prendere uno precedente ma normalmente invece vado a pescare sempre l'ultimo livello e questo livello può essere diverso dal mio perché magari o lavoro su due computer diversi quindi di fatto è un modo per passarmi il lavoro da un computer all'altro faccio commit su uno vado a casa vado in ufficio e faccio un update che poi nel linguaggio di Git si chiama Rapool sull'altro oppure sono più persone che lavorano contemporaneamente e allora prima al mattino dopo che ho preso il quarto caffè che sono più o meno sveglio dico ok comincio a lavorare non comincio dalla versione del progetto in cui ho finito di ho staccato ieri pomeriggio ma prima di tutto faccio un aggiornamento per andare a pescare se nel frattempo altre persone hanno fatto qualcosa così lavoro sulla versione più recente del progetto e questi sistemi di controllo delle versioni mi evitano di fare casino nel senso che scusate il termine è molto tecnico ma se capita che due persone non si parlano e lavorano entrambi sullo stesso file lui impedisce assolutamente che questo file venga sovrascritto quando tu cerchi di fare un commit lui ti dice no caro poi è modificato un file sulla base di una versione che è diversa da quella che c'è adesso già nei repository e quindi le tue modifiche potrebbero non essere più valide non te lo faccio fare il commit e ti obbliga a fare un'operazione quasi sempre manuale di merge, di fusione delle versioni lui ti dice vabbè senti quello da cui sei partito è questo quello che hai fatto è questo quello che hanno fatto gli altri è questo mettili insieme mettetevi d'accordo e poi salvate una versione che comprende la versione di entrambi è chiaro che mettere insieme contributi di più persone è complicato perché devi capire cosa ha fatto ciascuno però è obbligatorio allora o riesci a evitare quelli che vengono chiamati i merge conflict conflitti di fusione allora perché ti sei messo d'accordo prima ma se per caso succede almeno lo strumento ti evita la cosa che probabilmente sarà già successo in cui tu hai lavorato su un file e poi il tuo amico c'è scritto sopra ci ha salvato sopra una copia nuova perché nel frattempo lui ci aveva lavorato e non gli avevate messo d'accordo quindi in qualche modo prima di fare un commit sono sempre obbligato a fare un aggiornamento e se questo aggiornamento ha modificato qualche file su cui io ho lavorato allora devo mettere a posto le cose se invece l'aggiornamento tu hai modificato un file io non ho modificato un altro git è tranquillo vi diceva bene con l'aggiornamento prendo l'ultima versione del file che ho modificato l'altro col commit salvo l'ultima versione del file che ho modificato io queste sono le cose di base adesso non ho detto dove sta il repository dove sta la working copy beh la working copy ovviamente sta sul mio computer per forza ci devo lavorare quindi la copy di file che sta sul mio computer il repository può stare in posti diversi una versione cioè un modello diciamo così di controllo a versioni che si usava fino a qualche anno fa prevedeva un repository centralizzato salto la preistoria dove il repository era solo sul mio computer perché non ci stavano ancora le reti così diffuse ma tendenzialmente era un repository centralizzato quindi tutti avevano una copy di lavoro e ogni volta facevano un commit oppure un aggiornamento su quel singolo repository che va bene fin tanto che quel repository è sempre accessibile a tutti quindi tutti sono sempre collegati alla rete allo stesso repository e fin tanto che tutti sono diciamo così d'accordo sullo stesso progetto sullo stesso gruppo di lavoro cioè con questo modello diventa molto difficile dire ma bello questo tuo programma me ne faccio una mia versione e la porto avanti per i cavoli miei e io no è quello prima di tutto devi avere accesso dovrai avere la password per arrivare lì e poi se tu vuoi fare una una versione tua devi farla comunque lì dentro quindi è un sistema che funziona per gruppi di lavoro coesi ma non funziona diciamo così in delarge su gruppi di lavoro aperti progetti open source e cose di questo genere quindi si è passato a un controllo di versione di tipo distribuito che è il modello su cui si basa Git come funziona il modello distribuito? funziona che del repository ne esistono più copie ognuno ha la propria copia del repository quindi questo è il mio computer sul mio computer c'è la copia di lavoro ma c'è anche il repository il repository ricordiamo contiene tutta la storia di tutte le modifiche del progetto e c'è una copia sul mio computer se in questo istante il mondo scomparisse io potrei continuare a lavorare sul mio progetto facendo dei commit in locale e andando eventualmente a fare degli update dal locale e così ciascuno delle altre persone quindi l'operatività il lavoro sul progetto e la gestione delle versioni diventa un'operazione che può avvenire tranquillamente in locale ma e poi se no saremmo tornati indietro ci sono sono definite delle operazioni in più per sincronizzare tra di loro queste varie coppie dei repository dei vari utenti quindi io posso lavorare sul mio repository quindi lavoro che ne so in treno quando non ho la connessione in qualunque momento faccio dei commit che sono istantanei perché semplicemente sono fatti sul mio computer non richiedono magari 20 secondi di attesa salvare cose a fare l'upload sulla rete di qualche cosa se ne voglio andare a vedere qualche cosa lo posso andare a vedere navigando la storia anche qui in operazione istantanea perché è fatta sul mio computer e poi di tanto in tanto vado a sincronizzare questo repository con gli altri repository degli altri colleghi che lavorano sullo stesso progetto e anche qua questa sincronizzazione è fatta in modo protetto cioè non è che vado a sovrascrivere col file il sistema controllo delle versioni andrà a prendere le modifiche presenti nei vari repository e andrà a unirle se ovviamente non presentano dei conflitti se presentano dei conflitti invece ti richiede di sistemarlo in questa figura se notate lassù c'è un repository strano senza la copia di lavoro che è di fatto un punto centralizzato in cui c'è una copia comune dei repository potrebbe anche essere più di una ma facciamola semplice quindi noi possiamo lavorare questo sarà il nostro GitHub possiamo lavorare avendo un punto sulla rete in cui c'è la versione principale del repository tutti coloro che vogliono lavorarci se ne fanno si fanno innanzitutto una copia del repository in locale e poi ci lavorano normalmente e di tanto in tanto questa copia locale del repository va sincronizzata con la copia tra virgolette principale dico tra virgolette principale perché non c'è nessuno che dice che questa deve essere più importante di quest'altra è una scelta organizzativa di lavoro ne scegliamo una come principale normalmente la chiamiamo origin come nome breve ma è solo una scelta nostra a livello di funzionamento del meccanismo se questo domani mattina morisse GitHub decidesse GitHub è di proprietà di Microsoft adesso quindi non è che scompare dall'oggi al domani ma se dovesse scomparire dovessero decidere che da domani GitHub anse che sia gratuito costa 100 dollari al giorno non c'è problema continuiamo a lavorare con i nostri progetti troveremo un altro posto in cui mettere il repository principale ma non perdiamo nulla non siamo vincolati al gestore al proprietario di quel repository centralizzato è un sistema distribuito in cui ci fa comodo avere un punto centrale ma perché ci fa comodo non perché il sistema lo impone e quindi oltre all'operazione di committee update che sono tra la coppia di lavoro e il repository locale a questo punto parliamo di repository locali repository sempre locale quindi ho committee update sul mio repository locale e poi delle operazioni tra repository e repository tra repository locale e repository remoto un'operazione si chiama push in cui io prendo tutte le modifiche al repository locale che ho fatto nel recente passato e le replico sul repository remoto diciamo quello centralizzato diciamo su github ovviamente non copio tutto il repository perché lui sa quali sono le modifiche nel repository remoto che sono comuni a quelli del repository locale cioè quelli del mese scorso del mese e mezzo fa è tutta la storia e poi magari dall'ultima volta che ho fatto un push avrò fatto dei commit locali quando faccio push lui prende il pacchetto di commit locali che ho fatto dall'ultimo push e trasferisce a questi dopo un'operazione di push i due repository sono allineati contengono esattamente le stesse informazioni due poi magari c'è il mio cugino che lavora su questo altro computer che invece ha delle modifiche ovviamente io sono qua ha fatto push qua sopra quindi io e il repository centrale siamo allineati lui no perché magari ha delle modifiche locali di cui ha fatto commit non ha ancora fatto push e ovviamente non è che l'istantanamente possa sapere che io ho fatto delle modifiche fino a quando acquisirà e con l'operazione inversa che si chiama pull a livello locale le ultime modifiche che altri eventualmente hanno fatto sul remoto quindi un pochino complica il modello perché abbiamo sempre due passaggi commit locale e poi push quindi quando lavoro ho questo flusso faccio dei commit in locale posso fare uno, due, tre poi a un certo punto posso fare push e lui trasferisce gli ultimi commit che ho fatto se qualcun altro ci sta lavorando ogni tanto devo fare pull per andare a prendere le modifiche degli altri e verificare che non facciano conflitti con le mie e ricompire il progetto e vedo che continua a funzionare avendo fatto l'unione delle modifiche mie e quelle degli altri lavorando da soli invece l'operazione di pull è molto meno utile se non eventualmente per iniziare a lavorare su un progetto di un altro noi faremo spessissimo questa operazione nel laboratorio ad esempio in cui noi vi diamo già o all'esame vi diamo già un primo progetto e voi partite da quello per lavorare per fare il vostro qui ci sono poi delle operazioni ancora aggiuntive allora questi sono concetti generali in pratica noi andremo a vedere come sono implementati nel sistema git il sistema git è stato inizialmente creato da una persona sola che è il famoso linux torvalds che è quello che ha creato linux perché praticamente sul kernel del sistema operativo linux aveva già troppe persone che ci stavano lavorando e non riusciva a faticare a perdere troppo tempo a coordinarle e a coordinare le modifiche che gli mandavano il software ah ho modificato questo ho migliorato questo stava impazzendo allora ha detto vabbè mi invento una cosa che permetta di gestire facilmente dei gruppi di lavoro su scala mondiale senza un coordinamento totalmente verticistico ma più libero più articolato e quindi ha iniziato a produrre questo sistema che si chiama git che poi gradualmente ha preso piede e ha soppiantato quasi tutti gli altri sistemi vabbè qui ci sono alcuni link su un sito su cui sono ospitati diciamo così gli eseguibili di git ma per noi Eclipse già integra un suo plugin che permette le funzionalità di git quindi non abbiamo particolarmente bisogno di installare nulla git non ha bisogno di nulla per funzionare perché abbiamo detto che il repository è locale se però vogliamo avere anche un repository remoto unico possiamo usarlo possiamo crearlo su uno dei tanti siti tanti alcuni siti che offrono questo servizio il più famoso di questi è quello che si chiama git hub ok gli altri sono git lab oppure bit bucket che sono concorrenti in certo senso ma sono meno diffusi quindi git hub è un sito che ci permette essenzialmente di ospitare dei repository remoti e quindi poter far push oppure far pull da questi repository verso il nostro e poi possiamo decidere cosa farci con questi repository se renderli visibili privati invisibili condividerli ad altri utenti eccetera eccetera di fatto rispetto a git che ha come nozione centrale i repository git hub aggiunge una seconda come sito aggiunge una seconda nozione centrale che è l'utente quindi i repository sono di proprietà di un utente o di un gruppo di utenti e lui registra l'attività del singolo utente sui suoi magari molti progetti che quell'utente sta seguendo e questo in qualche modo per chi è nel mondo dell'informatica praticamente diventa il proprio portfoglio il proprio curriculum i miei progetti sono lì e puoi vedere qual è l'attività puoi vedere quante persone li seguono puoi vedere quanto ci lavoro puoi scaricarteli guardarteli in ottica di presentarsi a un colloquio di lavoro o cose simili nel nostro mondo è abbastanza frequente a meno che uno non abbia lavorato su progetti segreti quindi devono essere per forza nascosti agli occhi degli altri ma è abbastanza comune dare il link al tuo profilo GitHub e così altri possono vedere o non vedere perché i progetti possono essere pubblici o privati però GitHub ti traccia comunque l'attività la quantità di attività il follower e cose di questo genere allora dicevamo che vi avevo chiesto l'altra volta di crearvi un account no? iniziare a creare un account su questo GitHub sapendo che poi volendo ci sono delle altre offerte speciali collegate qui c'è il link a questo sito education dove ci sono altre offerte speciali per studenti se voi vi siete registrati come studente quindi con la mail del Politecnico che poi potrete ovviamente cambiare c'è solo a questo punto c'è solo un passaggio ancora una grana che è nata recentemente allora voi avete creato come magari io mi sono creato il mio profilo GitHub no? in cui questa è l'attività per dire ci sono i vari progetti che potete creare che in gergo si chiamano repository ci sono i gruppi che in gergo di GitHub si chiamano organization i gruppi a cui partecipi qui sono tutti i gruppi di vari corsi quindi io non ho molti repository personali perché quelli che creo sono quasi tutti all'interno dei corsi e entrate tranquillamente con la vostra password la password di GitHub che vi siete creati funziona solo in modalità interattiva cioè quando vi collegate al sito ovviamente per fare operazioni di push e pull Eclipse dovrà collegarsi al sito al posto vostro per ragioni di sicurezza GitHub non accetta la connessione con la password utente da parte di applicazioni terze quindi Eclipse ti dice senti dammi la password per collegarmi a GitHub se tu gli dai la password GitHub non lo accetta perché dice io questa password la accetto sul mio sito non dentro un programma che può averla rubata presa da chissà dove eccetera eccetera allora per poter collegare Eclipse al vostro a profilo di GitHub in modo che possiate fare il push e il pull dovete creare un codice apposito che create sul sito di GitHub e poi date ad Eclipse questo codice si chiama personal access token per gli amici token è un gettone un codice che devo creare su GitHub e dare ad Eclipse tutte le volte che Eclipse mi chiederà la password anziché la password io devo dare questo codice qui ok tutte le volte che devo fare un'operazione che ha bisogno di un privilegio di scrittura o di modifica e queste operazioni sono i push oppure i pull da un repository privato quindi leggo da un repository che non è pubblicamente accessibile a tutti ma solamente da alcuni e allora a questo punto ovviamente devo avere una password in modo che GitHub verifichi se ho il diritto di potervi accedere oppure in ogni caso il push perché devo ovviamente farlo il push deve sempre essere certificato da un utente no? se invece dovete fare a volte non me ne accorgete perché fate semplicemente magari un pull da un repository pubblico e lì non vi chiede nessuna password quindi ve la chiede solo per alcune operazioni quando ve la chiede dovete dargli questo token allora come si fa a creare questo token? qui nelle slide ho due o tre schermate ma lo facciamo insieme in diretta allora devi andare nel tuo profilo nei settings quindi profilo di GitHub settings poi ci sono tanti settings qua sulla sinistra tante categorie di impostazioni l'ultima developer settings di solito uno passa venti minuti a cercarla perché è in fondo e non la vede quindi impostazioni profilo settings developer settings dentro developer settings ci sono tre voci quello che ci interessa è personal access token e qui ci dice ci sono due tipi di token questo qua l'hanno inventato quest'anno e questo invece è quello classico quindi per ora noi siamo conservativi prendiamo le cose che sappiamo come funzionano quindi creiamo un token classico quindi quando vado su token qui ho la storia dei token che ho già creato vabbè e poi posso creare uno nuovo quindi vado qui quindi siamo arrivati qua profilo settings developer settings token classico personal access token classico lo creo lui mi dice di nuovo ma vuoi mica quello nuovo no senti guardami quello classico va bene questo qua quello di nuovi lui lo chiama fine grain perché c'è un token che vale solo per un repository quindi se tu hai 7 repository dovresti creare 7 token diversi ma anche no dai e allora quello normale è for general use ecco questa è la videata poi a un certo punto tipicamente vi chiede l'autenticazione a due fattori o cose di questo genere github ogni tanto e quindi adesso io devo usare il codice se avete installato l'app l'app github ve lo chiede lì altrimenti vi manderà un sms una mail con un codice per verificare che siete davvero voi anche perché con questa operazione qua stiamo dando accesso a tutti i nostri repository a chiunque abbia questo token ok allora questa è la pagina critica di creazione del token nota vabbè diamo una descrizione che ci ricordi che cos'è questo maledetto token la scadenza e i diritti che avrà sui miei repository chiunque usi questo token allora la nota è token di prova a lezione fatto la lezione scadenza diciamo nessuna poi lui mi sgrida no va dai non metto nessuna va bene potete mettere quando penserete di aver superato l'esame come no beh poi magari in vita continuate ad usarlo anche dopo tenete presente che un token una volta creato non si può rinnovare devi crearne uno diverso uno nuovo però non è un problema anche se anche scade ne crei un altro la prossima volta che Eclipse ti chiede la password metti quello nuovo non è che costa e poi devi dare come permessi repo eventualmente anche altri ma per funzionare sui repository devi dare tutti i permessi di tipo repo quindi tutte le operazioni sui repository questo token deve poter fare altre cose le possiamo fare ma non abbiamo bisogno che Eclipse le faccia al posto nostro quindi le possiamo fare in modo interattivo ok una volta che abbiamo scelto quindi una descrizione una scadenza e selezionato repo facciamo generate token e questo è il mio token che mi è stato generato fate attenzione che nel momento in cui io chiudo questa pagina questo token non lo potrò mai più vedere ok lui lo salva ma non è possibile recuperarlo in un secondo momento ok quindi quello che vi consiglio di fare è copiarlo da qualche parte in un file di testo da qualche parte in modo da da poter averlo perché vi serve averlo perché adesso magari lo mettiamo lo mettiamo sul mio computer lo metto dentro Eclipse ma poi quando siete in laboratorio e volete usare i vostri recuperare i vostri progetti oppure lavorare sui vostri progetti fare push sui vostri progetti vi servirà in laboratorio il token vostro che vi siete creati allora o lo dimenticate tutte le volte ne create uno nuovo tutte le volte così ne avete la fine 46 oppure ve lo salvate da qualche parte in modo che sia facile andarlo a poi inserire dentro la versione dei Eclipse che state usando in laboratorio sconsiglio fortemente di fargli una foto col cellulare perché ho visto gente all'esame prendere il cellulare e cercare di inserire correttamente un codice di questo tipo mi dispiace per loro a volte ci riescono se no fai prima fanno uno nuovo perché effettivamente caratteri strani eccetera quindi se volete salvarlo salvarlo in formato testo non in formato fotografia va bene sul cellulare va bene ancora probabilmente ancora meglio su una chiavetta o su un qualunque servizio cloud a cui possiate poi accedere facilmente dai vari computer che usate per copiarlo non fate così copia e incolla perché io prendo un blocco note perché se faccio copia e incolla avendo selezionato questo lui mi prende anche uno spazio davanti e uno spazio dietro quando voi prendete questa roba non me ne accorgete la incollate dentro Eclipse Eclipse vi dice il token è sbagliato ok? quindi c'è scusate se dico banalità ma c'è perché poi sono problemi che magari nel giorno dell'esame che si sommano l'ansia del resto uno dice non mi funziona più niente allora cliccate su questa iconcina qua che fa copia e quindi ve lo copia pulito e lo salvate da qualche parte ovviamente io poi sto con il codice qua che è finito in video lo butterò via lo cancellerò ma sono tutti fatti così questi codici fatto una volta fatto lo potete usare quindi l'importante è non perderlo poi non è importantissimo nel senso che se lo perdete ne create un altro ecco non è non è grave però salvatelo in un luogo in cui sia facile per voi recuperarlo ok infatti se poi tornate qua vedete che c'è token di prova fatto lezione non è mai stato usato per ora non ha scadenza se ci vado sopra lui mi mi fa vedere la scadenza le permesse eccetera volendo mi fa regenerate ma vuol dire che ne genera uno nuovo ma il valore del token precedente non c'è più non si può più vedere ma io me lo sono salvato perché mi hanno detto di far così ok e quindi tutte le volte che Eclipse mi chiederà a un certo punto utente di GitHub e password GitHub non inganniamoci non mettiamoci qua la password GitHub ma mettiamo il token e poi quello che vi consiglio è di spuntare la casellina dicendo ad Eclipse questo token ricordatelo ok perché altrimenti lo dovete inserire circa 100 volte perché tutte le volte che fai un'operazione lui vi richiede ogni volta il token quando faccio un commit quando faccio un push e dopo un po' l'Eclipse già non è non brilla per simpatia ma così diventa ancora peggio quindi lo memorizzate e rimane salvato all'interno ovviamente se è valido rimane salvato all'interno del vostro Eclipse quindi a chi dice ma me lo chiede tutte le volte o perché è sbagliato quindi te lo richiede perché non funziona o perché ti sei dimenticato di fare ricordati sì no no lo salva dentro il file di Eclipse quello che lui chiama il secure store interno e quindi quando riavvi Eclipse sullo stesso computer lui se lo ricorda quindi lo devi fare una volta sola questa operazione la prima volta per ogni computer che usa ok al di là di questa che appunto è una grana circa due anni fa GitHub ha messo questo vincolo e quindi ci ha obbligati a fare questa cosa molti altri programmi ambienti di programmazione tipo quelli di JetBrains tipo Visual Studio Code o altri si sono evoluti nel senso che come probabilmente mi sarà già successo per altri programmi quando tu entri devi dare la password ti apri una finestra su GitHub o su quel sito tu fai approva e poi ritorni nel programma quindi è di fatto un meccanismo automatico di generazione di questi token gli sviluppatori di Eclipse hanno detto no 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 facciamolo fare a mano agli utenti e quindi Eclipse è uno degli unici di pochi programmi in cui questa generazione di token viene ancora fatta dobbiamo fare esplicitamente va bene ok allora adesso proviamo a mettere insieme tutto in senso pratico delle cose che abbiamo visto vediamo operativamente come portare avanti all'interno del nostro Eclipse all'interno dei nostri repository allora ho riassunto tutto in un paio due o tre workflow quindi cose che voglio fare quindi non vi faccio l'elenco alfabetico dei comandi di GitHub ma partiamo dalle esigenze di programmazione cioè voglio creare un nuovo progetto ok creare un nuovo progetto su GitHub ovviamente un progetto locale che sia agganciato al mio profilo GitHub quali sono le operazioni? allora la prima operazione è visto che GitHub mi ospita un repository remoto io prima devo avere un progetto e avere un repository locale e poi dopo potrò copiare il mio repository locale che contiene il progetto sul repository remoto quindi il progetto non lo creo su GitHub lo creo sul mio computer lo creo in Eclipse poi lo salverò in un repository remoto ok? quindi prendiamo un qualunque progetto Eclipse magari quelli fatti con l'archepe tipo Maven come abbiamo fatto quindi creo un progetto normalmente come lo creerei di solito quindi facciamo i vari passaggetti ma se no potete anche provare un qualunque progetto di prova Java semplice non cambia nulla al fine di questo prendiamo questo qui prova Git lo chiamiamo ok e fin qua non abbiamo fatto nulla di nuovo ecco mi sono dimenticato di togliere l'interacti mode perché si quindi mi enter ok e ho questo progettino qua che non fa niente però è lì adesso prima di scriverci una riga di codice lo voglio mettere al sicuro quindi creo un repository che mantenga le versioni di questo bellissimo progetto in Eclipse tasto destro sul progetto tutte le operazioni di controllo delle versioni stanno sotto un menu che si chiama Team anche se un Team di uno è sempre un Team adesso il menu Team è praticamente vuoto perché questo progetto non è ancora sotto controllo versione per creare controllo versioni collegato a un repository locale collegato al progetto c'è questa opzione che non si chiama Create ma si chiama Share Share Project quindi quando io mi creo un progetto nuovo per poterlo mettere sotto controllo versione sotto git devo fare Team Share Project Share Project mi dice bene dove vuoi salvare questo ok adesso sto per crearti un repository locale collegato al tuo progetto dove lo vuoi salvare questo progetto repository in quale cartella mi dai in cui lo posso salvare io trovo comodo salvare repository nella stessa cartella in cui c'è il progetto di Eclipse lui il progetto lo salva in una cartella che si chiama .git e allora visto che il mio progetto c'è nel workspace gli faccio salvare la cartella dentro lo stesso workspace lui non è tanto contento ma alla fine quindi lui ti direbbe dimmi dove vuoi creare il repository e gli puoi dare una qualunque cartella oppure gli dici senti voglio crearlo dentro il repository scusami dentro il progetto dentro il workspace di Eclipse stesso allora selezioni questa casella per dire lo voglio creare all'interno del progetto selezioni il progetto all'interno del quale vuoi crearlo lui ti dice che non è una buona idea e tu lo puoi mandare mentalmente a spendere e alla fine puoi fare create repository e lo vedi che lo crea dentro qui questo tdp2023 questo qua è il mio workspace questo è il nome del progetto lui creerà una cartella .git dentro il progetto e che ne so quelli di Eclipse dicono che non è una buona idea perché così il workspace è loro se tu cancelli il workspace il repository rimane da un'altra parte loro tenderebbero a dirti salvati da qualche parte tipicamente lui sotto Windows ti servirebbe in users il tuo utente slash git e lì sono tutti i progetti di tutti però io trovo più ordinato così quindi sono i miei file il mio computer ma infatti ci sono le finestre apposta per farlo però allora devo selezionare progetto ah scusate ancora cliccare su create ok selezionato finish allora adesso cosa è cambiato spero che abbiate gli occhiali nuovi perché non si vede tanto qua con queste icone ma se avete il computer davanti lo vedete sono cambiate le icone del progetto e vicino al progetto è comparso un piccolo bidone giallo il bidoncino giallo quella è l'icona del repository ci dice che questo progetto ha associato un repository e poi a fianco di ciascuno dei file o di ciascuna cartella è comparso un piccolo punto interrogativo che dice che questo file rispetto al repository non c'è non è tracciato non è salvato perché cosa ho fatto? ho creato un repository vuoto finora in locale ok allora questo repository per ora l'ho creato vuoto ci voglio mettere dentro i file del progetto farò un primo commit in cui salvo i file del progetto iniziale i commit adesso se torno ad aprire il menu team vedete che è esploso ci sono tante voci mentre prima c'era solo una la voce che ci interessa in questo momento è appunto commit quindi ho creato un progetto con dei file dentro è lì tranquillo ho creato un repository che adesso non contiene nulla con prima operazione voglio fare un commit e il mio progetto ciò che vedo qua il progetto di Eclipse è quello che chiamiamo la working copy la mia area di lavoro voglio salvare una fotografia uno snapshot di questa working copy in questo stadio come primo commit all'interno del mio repository ok clicco su commit allora la finestra di commit è fatta così è brutta come tutte le finestre di Eclipse e ha due pannelli qua grandi sulla sinistra in cui nel pannello superiore mi dice quali sono le modifiche fatte al progetto rispetto all'ultimo commit cioè tutti tutti i file del progetto sotto ci sono i file che voglio includere in questo commit cioè magari io ho modificato tre file ma uno sto ancora facendo del lavoro non voglio ancora salvarlo come commit allora nel commit includerò solamente due file anziché tutti posso selezionare i file che voglio quindi prendo e li trascino sotto quelli i file che ho trascinato sotto sono i file in un'area di staging di fatto nell'anticamera del commit normalmente non vado a fare queste operazioni c'è questo bottone più più verde che me li copia tutti all'inizio li vediamo tutti i file poi nei commit successivi vedremo solamente qua i file che ho modificato cioè creato modificato o cancellato così posso anche verificare cosa sto per fare lo sposto nell'area di staging e questi sono sotto sono i file che commit sono i file che scusate l'italianismo il commit non si può fare se non metto un messaggio mi obbliga a mettere un messaggio quindi posso chiamarlo progetto iniziale e poi posso fare qui c'è il bottone ci sono due bottoni sotto uno sono commit e l'altro commit and push commit salva solamente in locale commit and push fa il commit in locale e poi subito dopo immediatamente fa un push verso il repository remoto adesso noi il repository remoto non ce l'abbiamo ancora quindi facciamo solamente un commit il push ovviamente lo possiamo fare dal menu possiamo farlo separatamente non è un problema però a volte magari vogliamo fare push subito allora semplicemente una scorciatoia fa commit e push anziché fare commit e poi dimenticarsi di fare push però facciamo commit e la finestra di commit adesso è più pulita perché ma perché ormai non ci sono modifiche nel progetto se io voglio andare adesso volessi modificare qualche cosa nel main.java e aggiungo anche solo un commento salvo questo file allora vedete innanzitutto che qua nel progetto è rimasto il bidoncino giallo per dire che siamo sotto git sotto git sono scomparsi i punti interrogativi perché a questo punto i file sono stati salvati quando io ho modificato questo file main.java compare un simbolo di maggiore qua una frecciolina che mi indica che questo file è modificato rispetto al repository gli altri file non compare nulla perché sono uguali all'ultima versione quindi volendo io potrei di nuovo fare un altro commit e vedete che adesso me l'ha aperta qui perché si ecco qua e questa volta mi fa vedere lui mi visto che questo main.java l'avevo già aggiunto al progetto lui me lo già preseleziona sotto se invece avessi creato un file nuovo me lo farebbe vedere sopra e lo devo spostare sotto io per dire si questo è un file che voglio salvare non è solamente un file temporaneo e mi fa vedere che è stato modificato volendo ci clicco sopra e mi fa vedere le modifiche fianco a fianco della versione nuova e la versione vecchia però in teoria mi ricordo per cosa ho fatto e quindi posso aggiunto un commento e faccio commit e vado avanti così lavoro normalmente ogni tanto posso fare un commit e vengo salvati i file localmente posso vedere sempre sotto team listory e mi fa vedere che il mio progetto ha due commit uno che si chiama progetto iniziale che conteneva questi file e uno che si chiamava aggiunto un commento fatti da me c'è la data eccetera che conteneva quest'altro file e qui ho lavorato in locale ok adesso vogliamo condividere questo progetto su github quindi torniamo eclipse tranquillo qua per un momento andiamo su github e creiamo un nuovo repository che ospiterà la copia remota centralizzata di questo mio progetto allora a fianco del profilo c'è un tastino più faccio il new repository e lui mi chiede dove voglio crearlo come si chiama l'owner posso essere io oppure posso essere uno dei gruppi che ho creato che si chiamano organization volendo se siete tra quattro persone lavorate su qualche cosa potete creare un organization all'interno della quale avete i vostri repository oppure lavorate sul vostro profilo personale quindi io per ora lo creo nel mio profilo personale e il nome del repository può essere quello che volete ma magari usiamo lo stesso nome del progetto che ho chiamato prova git ecco l'anno scorso l'avevo già fatto uguale quindi lo chiamiamo 23 diceva che esisterà già un repository mi sono dimenticato di cancellarlo ieri c'era ancora quello dell'anno scorso ok posso chiamare come voglio descrizione repo di prova per imparare github questo repository possiamo scegliere se sia pubblico o privato pubblico vuol dire che chiunque lo può vedere non modificare privato vuol dire che solamente io e le persone che abilito possono vederlo e o modificarlo secondo i permessi che gli do di lettura o lettura scrittura andiamo sul pubblico ecco da non fare è quello che c'è scritto qua sotto lui dice ma se vuoi aggiungi un readme oppure aggiungi la licenza oppure aggiungi un file che si chiama gitignore che dice ignora questi file tipo file temporanei e cose di questo genere e ti propone di inizializzare già il repository con questi file non facciamolo perché se lo facciamo stiamo subito creando un conflitto tra il repository locale che ho in eclipse e il repository remoto che avranno già subito dei file diversi e quindi partiamo già subito in salita se voglio creare un file readme lo creo in eclipse e poi faccio push ok crea repository questo è il repository appena creato che è identificato da questo indirizzo che contiene di fatto il nome del proprietario e il nome del progetto questo è l'indirizzo che devo dare ad eclipse per potermi collegare facendo push e pull questo è l'indirizzo remoto del repository ok quindi anche qua c'è il tastino copia mi copio questo repository torno in eclipse e a questo punto voglio salvare il repository locale in remoto adesso lui mi sta dicendo questo repository c'è ma è vuoto non c'è niente dentro quindi sta solo facendo vedere i comandi per popolarlo in qualche modo dai clips facciamo sempre team push ci sono vari modi di push che si abilitano a seconda che sia già stato collegato un repository oppure no però l'unico che si chiama push è quello lì quindi proviamo a cliccare quello che è separato da commit push allora questa è una più o meno sono due o tre diverse finestre che saltano fuori ma alla fine le stesse informazioni questa è la push per un primo per la creazione del primo remote allora remote name lui ti suggerisce origin per convenzione origin è il nome che chiediamo al repository principale con il centralizzato poi lui visto che avevo fatto copia prima da github e clips va subito a prendere si incolla da solo qua dentro praticamente questo indirizzo se non avessi fatto copia questo campo qua sarebbe vuoto e dovrei farci incolla dentro copia e incolla dentro ma se fate copia prima quando lui crea la finestra già lo popola così con tutti i dati che servono e poi come autenticazione lui visto che l'avevo già usato al mio utente è un token che avevo creato non è quello di oggi che avremmo memorizzato le volte precedenti infatti c'è scritto che viene memorizzato quindi qua dovete inserire per la prima volta la prima volta che vi collegate il vostro utente github e il token che avete creato quindi sopra incollate la url del repository attenzione che è questo qui e non è questo qui differiscono perché questo finisce con punto git essenzialmente ok qua sopra e sotto dovete incollare il token se tutto va bene andiamo avanti e lui ti dice guarda io ho un non abbiamo ancora parlato di branch ma non ne parliamo un ramo di commit che si chiama master che è stato creato automaticamente da eclipse vedete qua master e vogliamo creare un nuovo repository remoto a questo indirizzo creando un ramo anche quello che si chiama master potrei chiamarlo in modo diverso ma meglio chiamarlo nello stesso modo in remoto e voglio che questi due rami quello locale e quello remoto siano sincronizzati quindi ricordati mettili in collegamento quando farò push e pull li connettiamo ok questo solo la prima volta ovviamente capita questa finestra e questa finestra qua ti dice ho fatto ho confermato following expected push result il risultato del push che hai fatto scusate questo è ancora quello che sto per fare faccio push davvero e questa la conferma push al passato chiudo allora se io vado a vedere adesso la history no non me lo farò vedere qua scusate si confondevo con altri programmi se vado a riaggiornare questa pagina faccio refresh a questo punto anziché una pagina che dice che il repository è vuoto vedo i miei file e posso fare ciò che voglio a questo punto se io vado avanti nel mio progetto io voglio a questo punto creare un bel file un readme all'inizio appunto md all'inizio del progetto in cui ci scrivo qualche cosa eccolo qui salvo e poi lavorerò così io lavoro in locale quando ho fatto qualcosa faccio commit in questo caso il readme è la prima volta che lo metto quindi lo devo aggiungere aggiunto readme faccio commit and push questa volta ormai il push l'ho già collegato quindi posso fare direttamente questo lui lo salva e mi dà la conferma di pushing fatto ho salvato in locale ho salvato in remoto se vado in remoto aggiorno questa pagina vedo che è comparso il file readme e tra l'altro lui me lo fa vedere perché si chiama readme e se voglio posso andare a vedere che ci sono tre commit e sono questi tre qua quindi una volta che l'ho creato l'ho agganciato semplicemente man mano che vado avanti faccio commit e push anziché semplicemente commit e questo automaticamente straccia il mio progetto se lavoro da solo va bene questo è già sufficiente questo questo era il primo workflow creo da zero dimmi con due click i commit e poi clic su può darsi non so però è sempre meglio rileggere quello che fai prima di avere magari le shortcut troppo veloci allora questa operazione qua è un'operazione che questo workflow qua lo dovete fare solamente quando partite da zero su un progetto nuovo che vi create da zero quando invece lavorate su un progetto esistente normalmente non dovete fare così non dovete creare il progetto nuovo in eclipse ma vi agganciate quindi adesso abbiamo creato un progetto creato un repository locale e poi fatto push del repository locale sul remoto se invece il remoto esiste già un progetto esiste già dobbiamo lavorare al contrario quindi possiamo farlo già pensando all'esercizio che faremo nell'ora successiva in cui magari io all'interno dell'utente del gruppo tdp 2023 ho creato un progetto che si chiama libretto voti che è l'esercizio che faremo che è già in questo repository allora ci vogliamo lavorare quindi noi dobbiamo fare un'operazione inversa in cui c'è già un repository remoto mi voglio prima creare un repository locale e poi da lì creare un progetto eclipse su cui lavorare quindi da remoto al locale da locale al working space dentro eclipse l'unico dettaglio è che io in questo progetto non vi ho dato i permessi di scrittura quindi se anche voi all'operazione scusate non ho detto di creare un repository locale da un repository remoto si chiama clone faccio un clone del repository locale remoto in locale mi clono quel progetto quindi ci posso lavorare in locale e si può fare questo progetto pubblico quindi volendo potreste fare clone che in eclipse lo chiamano import vabbè la terminologia di github è clone il problema è che se voi fate un clone di questo progetto poi non potete fare push non potete salvarlo perché non è non avete i permessi per poterlo fare ok io posso prendere qualunque progetto mio o di cui ho i permessi faccio l'operazione di clone me lo porto in locale ci lavoro e poi potrò fare commit e push normalmente se io questo progetto prova git che abbiamo fatto prima poi vado in ufficio apro il computer ovviamente non c'è vado su su github faccio un clone e ci lavoro sull'altro computer e la prima cosa si prenderà questi tre commit che abbiamo fatto in classe e potrò continuare a lavorarci su questo no perché ovviamente voi non avete permesso di scrittura allora cosa ci permette di fare gitub ci dà un'operazione semplificata per creare una copia locale tua scusate non locale confondiamo le cose una copia tua del tuo profilo gitub di un progetto esistente qui c'è un progetto ci vuoi lavorare sopra ma non hai permessi per modificarlo allora fai un fork lo separi crei un fork di quel progetto nel tuo profilo cosa cambia che nel tuo profilo andrà a finire un progetto che è identico a quello da cui sei partito e da quel momento in poi è indipendente è un progetto tuo ci puoi fare ciò che vuoi hai fatto una copia di un repository remoto di un altro dentro un repository remoto tuo è qua fork in questo momento questo progetto liberto voti ha zero fork nessuno l'ha ancora clonato non usiamo clonato clonare vuol dire un'altra cosa fork faccio fork lui mi dice va bene crea un nuovo fork di questo progetto dove lo voglio salvare ovviamente lo salvo nel mio profilo personale anche qua esiste già e gli cambio nome quindi lo creo nel mio profilo personale con un certo nome nel momento in cui clicco su create crea fork lui ci pensa un attimino perché sta copiando la lunga storia di commit di quel progetto a questo punto ho un progetto libretto voti dentro la mia area personale che è stato forcato da quello del gruppo condiviso e adesso posso lavorarci questo è mio ok come faccio a lavorarci qui semplicemente lo posso solamente vedere per lavorarci devo portarmelo dentro Eclipse quindi parto da un repository remoto se non ho i permessi di scrittura ciò che devo fare è farmi un fork cioè una copia in cui io abbia i permessi di scrittura e poi diventa mio e indipendente diventa indipendente da quello originale quindi attenzione che se io adesso andassi a modificare quello sotto TDP 2023 le modifiche non vengono riportate qua in automatico anzi compare da un tastino dicendo il progetto da cui hai fatto fork si è aggiornato vuoi copiare gli aggiornamenti o no perché magari no perché magari state lavorando in una direzione diversa poi ve lo devo importare repository remoto mio ce l'ho è il mio fork devo fare un repository locale e una working copy allora il lavoro di nuovo di Eclipse a questo punto faccio nuovo progetto no scusate import la voce da usare è importa importa un progetto importa un progetto tra le varie voci di importa ce n'è una che si chiama git e noi dobbiamo selezionare importa un progetto da git non selezionate la seconda voce che dice con lo smart import perché tutte le volte che lui ha cercato di fare lo smart import mi ha sbagliato il progetto quindi non ho mai fatto non sono mai riuscito a farlo funzionare non so che cosa faccia di tanto smart da non funzionare ma la versione base funziona dimmi quale file scusa è su sulla github.com slash tdp 2023 questa è l'area in cui salviamo tutti i progetti di questo corso dalla pagina del corso ho già messo il link qua nella lezione di oggi c'è questo link a github se ci clicchi sopra vai direttamente a questa pagina liberto voti ok tutti i progetti che faremo sia anche quelli del laboratorio eccetera sono tutti sotto quest'area tdp2023 quindi github.com barra tdp2023 poi ci sono i vari progetti e da lì fate fork adesso ci sono già 42 fork la cosa mi mette una certa ansia ma va bene e quindi fate fork nel vostro profilo locale importa un progetto da git anche qua conviene ovviamente quando importo lui mi chiederà cosa vuoi importare allora gli devo dare l'indirizzo del progetto che voglio importare conviene che io vada dove lo trovo questo indirizzo del progetto che voglio importare nel mio progetto ovviamente apro la finestra della code e mi dà l'indirizzo del progetto copia quindi l'indirizzo del progetto per fare operazione di import di push eccetera è qua sotto la finestra della code lo copio lo copio prima perché così quando vado avanti lui se lo trova già precompilato se no lo dovrei incollare dopo vuoi importare da un repository locale che c'è già no voglio importare da un repository remoto e voglio che tu mi cloni quel repository remoto in locale quindi la seconda di cui ti do l'indirizzo la URI l'indirizzo è quello che avevo copiato prima gitab barra mio utente barra nome del progetto punto git e lui mi chiede le solite cose utente il token eccetera eccetera vado avanti lui mi chiede nel caso in cui ci fosse più di un branch quali voglio importare in questo caso ce n'è solo uno quello principale vado avanti qui non ho ancora importato nulla sta solo analizzando il progetto a questo punto mi chiede dove vuoi salvarlo ma io voglio salvarlo nel mio workspace tipicamente potete salvarlo dove volete però almeno li ho tutti insieme in questo momento lui non sta ancora pensando al progetto Eclipse lui sta semplicemente clonando i repository quindi questo repository potrebbe contenere le fotografie delle ricette della nonna lui non lo sa ancora Eclipse per cui dice senti è un repository io te lo clono dimmi dove vuoi che te lo metta poiché è un progetto Eclipse me lo metto dentro il workspace anche qua il branch si chiama master c'è solo quello origin è normalmente il nome che diamo al remoto a questo punto frulla e a questo punto ha fatto ha fatto il clone cioè in locale adesso una copia del repository locale uguale al repository remoto che corrisponde al mio fork e una working copy quindi salvata dentro workspace di Eclipse non lo vedo ancora qua tra i progetti perché per ora per Eclipse sono semplicemente dei file salvati in una cartella segue poi la fase di importazione del progetto dicendo guarda se questo conteneva un progetto Eclipse lo faccio riconoscere ad Eclipse spesso e quindi gli dico di sì lui mi chiede come si chiama il progetto va bene così finisce e a questo punto mi ha creato questo progetto e ad Eclipse a questo punto comincia a lavorarci vedete che prima era l'intrato rosso perché gli mancavano le librerie poi lui lo compila e ci posso lavorare da questo momento in avanti io ho questo progetto c'è un'app che posso far partire un attimo fa su questo computer non c'era nulla era tutto su Github parte la finestra ho scaricato le librerie doveva funzionare e poi ci posso lavorare da questo momento in avanti questo progetto qua avrà già una sua history che non so se è minima c'è un commit solo probabilmente sì c'è un commit solo quello che l'ho creato ovviamente quando faccio il fork lui si porta dietro a tutta la storia del progetto anche delle persone che ci hanno lavorato però da questo momento in avanti questo fork è mio e andrò avanti con la mia storia quindi se io modifico qualcosa non so aggiungiamo un commento per non far casino salvo ma qui avevo già aperto la finestra di commit guarda caso lo aggiungo e poi posso fare commit e push quindi abbastanza rapida la cosa devo solamente mettere il motivo e se torno su github lui mi farà vedere quando aggiorno questa pagina che adesso ci sono due commit uno era mio di ieri e uno sarà vostro di adesso adesso purtroppo io sono sempre io quindi non si vede la differenza e poi vi dice che il vostro progetto è un commit avanti al master cioè rispetto alla copia che avete fatto nel master avete fatto un commit sopra il master quello precedente da cui da quello di 2023 queste operazioni qua contributi e syncfork servono se voi doveste poi collaborare con il progetto principale quindi magari è un progetto comune c'è un proprietario principale voi lavorate aggiungete le funzionalità e poi chiedete al proprietario di integrare queste funzionalità perché gli mandate dei commit che a lui possono servire perché contengono ma queste dinamiche qui non le useremo in questo corso quindi l'operazione seconda inizio a lavorare su un progetto che c'è già ma questi passi faccio un fork in modo da avere una copia del progetto che io possa modificare nella mia area personale clonare il progetto in Eclipse che è attraverso la funzione import import from git e poi lavoro nel progetto fatto questo il progetto a questo punto è un mio repository locale posso lavorare fare i bei push esattamente come prima come se il progetto l'avessi creato io questi due meccanismi di fatto ci permettono di lavorare con una logica lineare un tempo lineare un commit dopo l'altro in una sequenza unica in realtà git e poi di qui le cose si complicano permette anche di creare delle sequenze divergenti per cui io ho normalmente un branch che si chiama master oppure molti oggi suggeriscono che questi branch invece si debbano chiamare main c'è stata una lunga discussione due anni fa in cui tutti dicevano che master era brutto perché era una terminologia master slave che ricordava lo schiavismo e quindi ci sono messi tutti a rinominare i branch che si chiamano master in main quanto pare main è meno offensivo rispetto a master ma va bene e quindi trovate in giro dei documenti di tutorial alcuni lo chiamano master altri main c'è un branch principale spero che con principale non si offende a nessuno che contiene diciamo così l'evoluzione del progetto e poi magari ci sono tanti rami separati tanti branch separati in cui vado a sviluppare delle funzionalità cosa c'è questa roba? perché io una funzionalità nuova non la sviluppo in un unico commit e quindi quando implemento qualcosa di nuovo ed è incompleto non posso fare commit nel branch principale perché se no vado a rovinare il branch principale quella è quella dell'applicazione che sta funzionando e non posso neanche tenermelo sul mio computer senza fare i commit perché poi non ci posso lavorare con altri o non mi salvo le modifiche allora cosa faccio? mi creo un ramo privato ma è semplicemente un click basta fare l'operazione di check out new branch sul clips e lui comincia a lavorare in un ramo privato a cui ho dato il mio nome e lì lavoro posso fare i commit posso fare i push semplicemente è un ramo separato quando poi questa feature che ho implementato funziona la voglio integrare nel ramo principale allora farà un'operazione di merge di fusione delle modifiche cosa fa la merge? applica le modifiche che sono avvenute in questi commit li applica al branch principale se poi nel frattempo qualcun altro ha fatto degli altri branch li ha anche sviluppati e fusi vabbè prima di fare il merge ovviamente dovrò aggiornarmi alla versione più recente del master ma qui quindi supporta qui non parliamo d'altro non dico più nulla di più a proposito di branch solo per capire che il modo in cui usiamo noi GitHub è il modo di base in cui essenzialmente è utile per lavorare in una persona sola con una storia lineare quando uno lavora su un gruppo di più persone le cose si complica ma la piattaforma li supporta tranquillamente anche dinamiche di lavoro molto più complesse ok io qua mi fermerei a questo punto vi ho già anticipato che nell'ora successiva lavoreremo sul progetto che si chiamava Libretto Voti che a questo punto abbiamo già clonato e è già pronto sul nostro computer e quindi tra un quarto d'ora quindi alle 10.10 riprendiamo facendo un po' di esercizi di pseudo ripasso di Java grazie a tutti grazie a tutti